Torni a Camerata Nuova, l'imperdibile appuntamento con la sagra del raviolo Cameratano, la tradizionale manifestazione nella cittadina laziale, con questa consueta e mancabile etichermesse. Domenica 25 giugno, quindi, tutto in piazza a Camerata Nuova per vivere questo ennesimo appuntamento, organizzato dalla Proloco con il patrocino del comune di Camerata Nuova, che dalle ore 12 e 30 vi delizierà con un ricco e prelibato menù, preparato appositamente per l'occasione dagli stand gastronomici. I componenti della Proloco vi aspettano per farvi degustare l'ormai tipico raviolo Cameratano con tantissimi altri prodotti del territorio, per questa splendida festa alle porte di Roma e poi gli immancabili spettacoli musicali e culturali. Vi aspettiamo numerosi il prossimo 25 giugno, dove a Camerata Nuova, Autostrada A24, uscita Car Sole per la sagra del raviolo Cameratano, un appuntamento da vivere tutti insieme all'aria aperta, in allegria e tanto divertimento.